andiamo a vedere come inserire le preferenze nello step 5 ricordiamo che la stessa operazione deve essere fatta per chi ha le gps prima fascia sostegno oppure nello step 4 per ai fini della scelta delle preferenze fini del ruolo sono due steppe molto simili uno vale 4 per l'immissione ruolo del 5 vale per le supplenze per cui chi si trova nelle gps prima fascia dovrà compilare entrambe le sezioni tutti gli altri che si trovano in prima fascia però posto comune o seconda fascia dovranno compilare solamente lo step 5 ma non avranno accesso per compilare lo step 4 andiamo a vedere come aggiungere le preferenze facciamo aggiungi preferenza andiamo in si apre questa cartella per in scegliere proprio l'insegnamento innanzitutto scegliamo per esempio 0 41 poi il tipo di preferenza che può essere puntuale su scuola oppure sintetico comune distretto provincia facciamo scuola e andiamo a scegliere dal selezionatore una scuola di reggio calabria o più scuole di reggio calabria ne scegliamo quattro scuole di reggio calabria così a caso facciamo una ricerca delle tutte le scuole di reggio calabria e noteremo che si aprirà un per esempio si può dare il campanella si può dare leonardo da vinci ma poi scendendo si può scegliere il panella ma si può scegliere anche un corso serale come quello sempre del panella fare avanti selezione ti fa vedere quali scuole vandrà andrei a confermare ea preordinare se vuoi ordinare in maniera diversa lo puoi fare facendo salire una di queste più su poi vi faremo vedere come fare la scelta secondo l'ordine e andiamo a fare avanti di vi dà la possibilità di scegliere la tipologia di contratto che può essere anche una scelta di più tipologie insieme cioè contratto annuale e fino al termine le attività didattiche insieme però noi facciamo per esempio solamente il contratto annuale e dunque andiamo a salvare in questo senso vedete ecco sono ordinate in questo senso ma se per esempio io non volessi il liceo classico convinto campanella come prima ma piuttosto volessi come prima l'istituto panella valauri posso posizionandomi posizionandomi sul panella valauri andando su queste tre lineette qui sollevare con trascinando in testa il panella valauri cosa succede che il panella valauri andrà in prima posizione e scenderanno le altre per come erano già state poste se voglio per esempio far salire il vinci lo trascino e lo faccio salire in seconda posizione vedete che è possibile dare le posizioni per trascinamento dopodiché si può andare a annullare qualche indicazione se per esempio voglio annullare una di queste scuole non voglio il serale faccio clicca qui vado su elimina selezionati avrò l'eliminazione e ne avrò tre anziché quattro andiamo a mettere per esempio un comune aggiungiamo la preferenza di un comune e aggiungiamo la preferenza del comune sempre su 041 sempre tipo di preferenza stavolta comune e sceglierò di metterlo in coda non in testa non personalizzato ma in coda andrò a metterlo in coda perché ha più senso mettere in coda un comune che metterlo in testa ovviamente e poi scegliamo il comune andiamo a scendere tra tutti i comuni andiamo a scegliere quello che riteniamo il comune che vogliamo mettere e dunque scendendo anche rapidamente facendo così andiamo su reggio calabria facciamo avanti ancora avanti e comune sempre e andiamo a mettere la sezione annuale il tipo di contratto annuale qua ci dirà siccome se voglio cattedra orario nello stesso comune dirò per esempio sì e se voglio la sezione ospedaliera quella carticcerale a serale e adulti posso selezionare sì e fare salva e ottenere così il comune in coda in questo modo e vedete che avete che ho tutte le carte del comune reggio calabria per la 041 contratto annuale stesso comune ospedaliera carcere serale adulti e posso poi continuare a fare le scelte per esempio anche metto una scuola metto una 060 per esempio cambio classe di concorso e vado a mettere un distretto un distretto e lo posiziona ecco il distretto lo metto per esempio personalizzato lo voglio messo nella posizione numero 4 vedete numero 4 metto un distretto dunque mi comparirà al posto 4 il distretto 30 per esempio andrò dunque scenderò fino in basso a fare avanti mi dirà che il distretto 30 vandrà alla posizione 4 di così avanti lo faccio per contratto annuale con le cattedre anche sul diverso comune metterò ospedaliera carceraria serale adulti comparirà come per magia nel al posto numero 4 il distretto che se poi lo voglio inserire più in basso basta trascinarlo più in basso e mi scambia il ruolo con il comune di reggio calabria e così via vediamo e sperimentiamo per la prima volta mettere la provincia mettere la provincia aggiungiamo il sempre per la 0 41 mettiamo la provincia di reggio calabria la mettiamo in coda perché la provincia non avrebbe senso metterla in testa perché annullerebbe tutte le altre preferenze scelte e andiamo a fare avanti diciamo confermiamo e preordiniamo ok mettiamo le annuali ok andiamo anche cattelare comune diverso sembra un po spinta questa mettiamo sul stesso comune ospedaliera carceraria serale adulti facciamo salva e questo va in coda per come stabilito provincia di reggio calabria 0 41 se si vuole fare qualche modifica su questa matita è possibile modificare qualcosa rispetto alle scelte fatte se si vuole annullare si può anche annullare la scelta ripetiamo facendo come si annulla una scelta si seleziona il la scelta fatta così e salendo andiamo in elimina selezionati verrà eliminata la selezione e così via si possono fare tutte le preferenze che si vogliono passando invece lo step 7 lo step 7 è importante per individuare le priorità sulla provincia della legge 104 92 abbiamo delle dichiarazioni sotto la propria responsabilità da fare questa sarebbe riferita all'articolo 21 legge 104 cioè a chi ha un invalidità superiore e due terzi ed è disabile senza l'articolo 3 della legge 104 92 comma 1 comma 3 si può anche indicare la preferenza la precedenza può essere una sola all'articolo 33 comma 6 la disabilità su se stessi in caso di gravità articolo 3 comma 3 della legge 104 oppure l'articolo 33 commi 57 per l'assistenza al genitore in qualità di genitore fratello sorella o tutela legale e quasi devono inserire i nomi il cognome il nome del referente e data di nascita luogo di nascita e residenza del domicilio e poi l'articolo 3 si ripete di nuovo articolo 3 comma 57 riferito in qualità di coniugene oppure di figlio e la stessa cosa si inserisce il nome il cognome della persona che si assiste e chiaramente poi si fa questa dichiarazione obbligatoria si deve inserire trascinare il file del verbale della 104 di riferimento e quindi si fa salva questo diciamo in pratica la procedura per la priorità della legge 104 poi passando al riepilogo inoltre questa è l'ultima fase dove ci sono tutti i dati anagrafici la tutti gli step gli insegnamenti le preferenze già inserite la priorità di legge 4 inserita e questo tasto sarebbe il tasto dell'inoltro e la domanda praticamente è fatta si richiede importante l'attenzione nella scelta delle preferenze fatte in modo tale da coprire tutto il territorio per non rinunciare a nulla per evitare di essere scavalcati ma poter fare una scelta secondo le proprie esigenze arrivederci a tutti grazie a tutti